Ciao amici, sono qui nei camerini del Gardaland Theatre e sono qui per assistere a questa manifestazione nuova, il Gardaland Magic Circus che si annuncia come un'esperienza fantastica e divertente. E vi voglio svelare un segreto, il 20 maggio io sarò qui per premiare una grande artista unica nel mondo del grande spettacolo circense internazionale ed Eliana Orfei. Eliana, la nostra Eliana finalmente! E in più io sarò il cerimoniere del Gardaland Magic Circus. Ci saranno tantissime sorprese anche per voi, sorprese che non vi posso svelare.